Questo periodo l'ho passato stando in casa a guardare dei serial, dei film che mi ero messo da parte negli anni, a lavorare su dei progetti ai quali sto lavorando, quindi a studiare, a fare ricerca, allenandomi un po' in casa con degli attrezzi da palestra, stando di più con la mia famiglia sicuramente e rimettendomi anche a cucinare, cosa che non facevo da un sacco di tempo e mancherebbe ancora un ultimo passo che sarebbe quello di rimettermi anche a leggere tutti i libri che ho acquistato in questo periodo. Abituato a viaggiare la sensazione, la realtà di trovarsi fermi all'improvviso è strana, è strana l'idea anche mentale di dire sì vado là ma non posso, non posso neanche prendere un aereo ma non posso neanche uscire da Milano, quindi questo è veramente difficile da concepire. Ci si sente un po' chiusi in gabbia, poi si pensa a chi sta veramente male, a chi è molto obbligato a stare in ospedale che sta molto peggio di noi e anche a chi non può mai viaggiare, quindi da una parte capiamo quanto siamo, quanto sono stato fortunato fino ad oggi e quanto dobbiamo assolutamente impegnarci a seguire quelle che sono le regole che ci hanno detto, quindi rimanere in casa per cercare di limitare al massimo questo contagio di questo virus. Quindi nessun fenomeno, nessuna improvvisazione si rimane in casa fino a quando sarà il momento opportuno che si potrà tornare a uscire. Allora l'agenzia per il primo mese fino ad oggi praticamente abbiamo lavorato, ho fatto lavorare i dipendenti in smart working per cercare di fare archivio e sistemare anche lì un po' della quantità, la mole di lavoro che era in stand by. oggi, dalla settimana prossima cominceremo anche noi a mettere in casa integrazione i dipendenti anche perché materialmente il nostro lavoro è assolutamente a zero, totalmente fermo, quindi non possiamo permetterci, non posso permettermi di avere delle persone in questo momento che continuano a lavorare senza produrre assolutamente nulla. Per quanto riguarda il futuro, credo che cambierà abbastanza il modo di vivere, credo che per quanto riguarda la moda, il lusso, gli eventi torneremo a crescere pian piano, ci vorrà parecchio tempo e spero e auspico che forse da settembre riparta un po' tutto. Per quanto riguarda la domanda numero 4 sarei molto felice che forse gli editori, i brand di moda, i brand del lusso, le aziende, tutti scoprissero l'eccellenza italiana anche per quanto riguarda il mio lavoro, la fotografia e anche i video e forse guardare un po' meno all'estero e scoprire che possono fare, avrebbero potuto farlo anche prima, tante cose in Italia con una grandissima qualità. spero che questo succeda come conseguenza del virus e potrebbe essere un lato positivo di questa strana situazione in cui ci troviamo a vivere. anche il governo come tutti noi si sta trovando in una situazione unica e quindi anche il governo deve decidere quali strade prendere e sta provando. Credo che la strada che ha intrapreso, il decreto che sono stati fatti non sono ancora sufficienti a garantire un seguito, un futuro a tutte le persone coinvolte che stanno soffrendo questa situazione. Nel mio caso sicuramente appartengo a una categoria che per il momento non è neanche stata presa in considerazione, quindi spero che le cose cambino. Le fonti da cui mi sono informato di più, direi quotidiani, web, sicuramente il web è prima ancora dei quotidiani, quotidiani, poi tv e poi da dei medici che conosco, alcuni anche molto specializzati proprio in questo settore che con i quali ci sentiamo abbastanza regolarmente per cercare di avere qualche indicazione. Credo che si tornerà a pieno regime, spero da settembre, spero da settembre e poi sicuramente da gennaio, sperando che non ci sia una ricaduta del virus col ritorno poi dell'inverno e ammesso pure che passi il virus, se veramente è una domanda difficile a cui rispondere. Voglio credere che a settembre torni tutto normale. Credo che la foto emblematica di questa emergenza non sia la città vuota, non sia il ragazzino che gioca a pallone per strada e che tra l'altro sta trasgredendo le regole, quindi non trovo neanche corretto credere che questa sia la foto emblematica, credo che la foto emblematica sia l'infermiera che crolla sul computer e si addormenta perché sono i veri eroi di questa situazione, sono gli infermieri, i medici che sono in prima linea, esposti e nonostante tutto hanno dimostrato che anche il sistema sanitario in Italia è un'eccellenza. Grazie a tutti.